L'arbitrato non ci aspettiamo proprio niente. In realtà siamo perfettamente consapevoli che questi 100 milioni che sono stati messi a disposizione probabilmente avanzeranno in abbondanza. La posizione dell'associazione vittime del SalvaBank era stata abbastanza chiara. Per loro l'arbitrato è una perfetta ingiustizia e 100 milioni di euro messi a disposizione sarebbero addirittura avanzati. Ad essere contestato è infatti il procedimento che impone ai clienti delle quattro banche di dimostrare il raggiro subito. Forse anche per questa presa di posizione il Governo ha scelto di forzare il negoziato con la Commissione europea per arrivare ad aumentare la cifra messa a disposizione dei rimborsi da 100 a 300 milioni. Il nuovo decreto legge per il risarcimento dei risparmiatori potrebbe vedere la luce nelle prossime ore. I criteri di accesso al fondo rispetto alla prima versione sarebbero decisamente ampliati, ma non è chiaro se resteranno gli arbitrati o ci saranno degli automatismi. L'amministratore delegato dei quattro istituti nati dopo la risoluzione, Roberto Nicastro, trasmetterà questa settimana l'Information Memorandum agli investitori che hanno manifestato interesse al loro acquisto, singolo o in blocco. Tra i potenziali pretendenti ci sono banche italiane, straniere oltre a numerosi fondi privati. Le informazioni sullo stato di salute dei quattro istituti, che comprenderanno anche i dati di bilancio del 2015, permetteranno agli interessati di presentare le offerte preliminari non vincolanti dopo le quali verrà avviata la verifica e la cessione vera e propria attesa per l'estate.